messaggio della madonna 21 settembre 2019 la pace miei figli amati la pace figli miei io vostra madre vengo dal cielo per chiedervi di rimanere saldi sul sentiero della conversione che vi mostro perché dio desidera avervi ciascuno un giorno in cielo non allontanarvi dalla preghiera non lasciarvi sopraffare dalle prove della vita o dalle difficoltà che incontrate nel vostro cammino spirituale satana è infuriato e desidera guidare molte anime sul sentiero della perdizione che conduce al fuoco dell'inferno sta usando tutti i mezzi in modo che così tanti miei figli siano colpiti dalle sue bugie errori allontanandoli totalmente da dio pregate figli miei pregate molto e fate dalla preghiera il vostro incontro speciale con dio molte dei vostri fratelli non pregano quindi stanno lasciando la chiesa di mio figlio gesù e tradiscono la fede per seguire il diavolo e il mondo e il peccato vedrete ancora cose terribili accadere nella casa di dio e sarete sorpresi di vedere come i ministri di dio cadranno nel peccato e nella mancanza di fede pregate per la santa chiesa piegate le ginocchia a terra e supplicate la luce di dio e la misericordia per di clero perché dio purificherà molti dei suoi ministri che vivono in una doppia vita portando molti fedeli all'errore ecco il braccio del signore scenderà fortemente sul mondo per purificare i peccatori e liberare così tanti dei suoi figli da ogni male vi amo e non voglio la vostra infelicità ma la vostra salvezza eterna pregate pregate sempre di più il rosario per i beni dell'umanità e per la pace in brasile chiedete la misericordia di dio per il brasile perché potrebbero sorgere grandi conflitti se i miei figli non pregano e non fanno penitenza amazonia soffrirai molto se non mi ascolti e non mi obbedisci ritorna a dio e abbandona il peccato ritornate le vostre case con la pace di dio vi benedico tutti nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amè